chi lo sa ma perchè recluta? salvo! mi sentite? barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio mi sento piano io, a voi via a recluta anche per farle con le brote mi ha messo a recluta per farle equilibrato per farle col batata eh porta barricata rimangono 10 secondi copritemi il ricarico mancano 5 secondi il nemico non ha trovato il contenitore di più rischio il nemico ha trovato il contenitore di più rischio il nemico ha trovato il contenitore di più rischio il nemico ha trovato il contenitore di più rischio per farle e il nemico ha trovato il contenitore di più rischio si Ce n'è uno nello stantino Ultimo nemico rimasto Scusate eh Scusate eh Ma quando me ne hai fatto Ma ti hai fatto tutte e 5 o erano 4? No erano 4 Ma perché erano 4 però Vabbè ma te ne ho fatto tutte